E' una cosa diversa al solito. Sono sempre felice, sono un uomo fortunato perché mi è capitato quello che sembra impossibile per un chitarrista classico. La notte della Taranta cos'è per te? È un modo di raccontare la cultura autoctona di questa terra. Io ho detto una volta che la Taranta è il ritmo di questa terra e la mia chitarra umilmente vuole essere un messaggio sonoro dentro questa dimensione sonora grande. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS